Non ci sono i presupposti per qualsiasi imputazione. Questa è la posizione delle difese dei venetisti in carcere da ieri dopo il blitz dei carabinieri a Casale di Scodosia e nelle abitazioni dei singoli appartenenti all'organizzazione L'Alleanza, nata sulle ceneri dei Serenissimi del 97. A ribadirlo, il legale di Franco Rocchetta, ritenuto dalla procura di Brescia titolare dell'indagine e l'ideologo dell'eversione. Sergio Dal Pra ha sentito anche oggi Rocchetta rinchiuso con altri cinque detenuti in una cella del carcere di Santa Bona. L'ha trovato sereno e più che mai convinto delle sue idee, ci ha confermato il difensore, che ha rimandato ogni ulteriore comunicazione a sabato quando ci sarà l'interrogatorio di garanzia. Ancora più polemica la posizione della trevigiana rinchiusa nel carcere della Giudecca. Maria Marini di Volpago ha rigettato l'avvocato d'ufficio richiedendo di essere difesa dall'intero popolo veneto. Una vicenda che vista dalla parte della difesa potrebbe fare acqua da tutte le parti, dalle armi, tutte regolarmente denunciate, al tanco, un trattore con delle lastre saldate che difficilmente si potrà far passare per un carro armato. Infatti, ribadiscono gli avvocati della difesa, il tanto sbandierato cannoncino non sarebbe altro che un tubo comune dove i venetisti avrebbero di fatto provato a far brillare dei petardi. Infine le intercettazioni, con affermazioni sicuramente più da bar di osteria che da convinti eversori. Di una cosa comunque restano convinti tutti, della valenza politica su tutta la vicenda con il primo risultato di aver aumentato il consenso verso l'indipendenza del Veneto. A Treviso, come a Verona, davanti ai cancelli del carcere, da questa mattina è iniziata una maratona di solidarietà per i reclusi. Per sostenere l'inattendibilità della sua carcerazione perché veramente siamo scaduti nel ridicolo con questa cosa. Fino a quando resterete qui? Finché non lo scarceranno. Vorrei cogliere questa occasione per fare un appello e invitare tutte le persone che credono nel nostro percorso legale e pacifico a venire qui davanti al carcere di Santa Bona a Treviso per sostenere Franco in questa sua battaglia.